Ha raggiunto 18,3 miliardi di euro al 31 gennaio scorso il totale degli investimenti ammessi alla detrazione del super eco bonus 110% in crescita rispetto ai 16,2 miliardi contabilizzati al 31 dicembre scorso. Lo rende noto l'Enea e il Ministero della Transizione Ecologica indicando nella tabella nazionale 107.588 asseverazioni. L'investimento medio per i condomini è stato di 539.000 euro, per gli edifici unifamiliari 109.000, per le unità indipendenti 96.000.